Un tumulto della rivoluzione francese, un'oscura tempesta di cambiamenti travolse il cuore della fede e della spiritualità. In questo scenario drammatico, emergendo dalle rovine del vecchio ordine, si innescò un'epoca di sconvolgimenti implacabili, l'ondata di scrizianizzazione durante il regime del terrore. In un teatro di tensioni politiche e sociali, il governo rivoluzionario si scontrò con le istituzioni religiose, riscrivendo la narrazione spirituale della nazione con gesti radicali e cerimonie laiche. Mentre la fede fu messa alla prova nell'incendio della rivoluzione e l'ombra della ghigliottina si stagliò contro l'altare della tradizione, andremo quindi a scoprire un'epopea della scristianizzazione, un capitolo teatrale che ha plasmato l'anima di una nazione in tempi di tumulto senza precedenti. Il clero cattolico fu perseguitato e molti sacerdoti furono costretti a giurare fedeltà alla repubblica e abbandonare il loro ruolo religioso. Alcuni addirittura furono imprigionati o giustiziati. Venne introdotto un nuovo calendario rivoluzionario con nuovi mesi e nuovi nomi basati su elementi naturali. Questo sostituì il tradizionale calendario cristiano. Fu anche istituito il culto della ragione come una nuova forma di culto laico. Templi della ragione furono istituiti in molte città e villaggi dove venivano celebrate cerimonie patriottiche secolari. Queste misure facevano parte di un ampio sforzo per eliminare l'influenza della Chiesa cattolica e sostituirla con valori istituzioni repubblicane. Tuttavia è importante notare che questa ondata di iscrizianizzazione non fu omogenea e incontrò resistenza in diverse regioni della Francia. Inoltre dopo il periodo del terrore vi fu una fase di riconsolidamento delle istituzioni religiose. Anche se la relazione tra Chiesa e Stato rimase oggetto di tensioni e cambiamenti nel corso del XIX secolo. Il vescovo Jean-Baptiste Gobel fu coinvolto in uno degli episodi più significativi legati alla decristianizzazione. Nel novembre 1793, durante il culmine del periodo del terrore, Gobel venne convinto ad abbiurare la sua fede cattolica e ad aderire alle nuove ideologie repubblicane. Jean-Baptiste Gobel era stato inizialmente un sostenitore della Chiesa cattolica, ma in seguito si allenò con le forze rivoluzionarie. Pressato dalle circostanze politiche e dalla volontà di aderire ai principi della Repubblica, Gobel rinunciò al suo ruolo ecclisiastico e alla sua fede cattolica. In un gesto simbolico, durante una cerimonia pubblica a Notre-Dame, Gobel abbiurò il cattolicesimo e adottò il culto della ragione. Questo episodio evidenzia il clima tumultuoso e le pressioni politiche che molte figure religiosi avevano affrontato durante la rivoluzione francese. Molti sono stati costretti a scegliere tra aderire alle nuove ideologie repubblicane e mantenere la loro fede religiosa spesso con conseguenze tragiche. Tuttavia è importante notare che molti di questi episodi facevano parte di un contesto più ampio di trasformazione politica e sociale che caratterizzavano quel periodo storico. Durante il regime del terrore, il 10 novembre 1793, la cattedrale di Notre-Dame a Parigi fu trasformata in un tempio della ragione. Questo fu un evento significativo durante la fase di decristinizzazione e durante la rivoluzione francese. La trasformazione della cattedrale in un tempio della ragione rappresentava il tentativo di eliminare l'influenza della Chiesa Cattolica e sostituirla con una forma di culto secolare basate su principi repubblicani. Durante la cerimonia del 10 novembre, la cattedrale venne spogliata di simboli religiosi tradizionali e al loro posto furono collocati simboli legati alla rivoluzione e principi della Repubblica, come la libertà e la ragione. La cerimonia celebrava la libertà e la nuova visione della Repubblica francese, enfatizzando ideali laici anziché religiosi. Questa trasformazione dei luoghi di culto in tempio della ragione era parte di un ampio sforzo per cambiare la natura della religione e della spiritualità durante la rivoluzione francese. Il periodo della decristianizzazione rappresentava un tentativo di rompere le tradizioni religiose esistenti e di creare una nuova identità culturale basata sui principi repubblicani e la città. Tuttavia, queste misure furono spesso oggetto di controversia e resistenza e molte di esse furono successivamente abbandonate o modificate nel corso del tempo. Nel contesto dell'antico regime francese, la Chiesa Cattolica aveva un ruolo privilegiato e spesso era associato all'aristocrazia. Il clero godeva di molti privilegi e deteneva considerevoli ricchezze, mentre gran parte della popolazione era oppressa da tasse e giustizie sociali. La Chiesa era vista come parte del sistema di potere che la rivoluzione cercava di rovesciare. Le istituzioni religiose erano considerate in contrasto con i principi repubblicani della libertà, uguaglianza e fratellanza. La Chiesa era vista come una parte del vecchio ordine sociale che la rivoluzione intendeva superare. La decristinizzazione fu vista come una necessità per rompere con il passato e stabilire una nuova identità nazionale basata sui valori laici e repubblicani. Molti membri del clero si opposero alle riforme proposte dalla rivoluzione, compresa la Costituzione civile del clero 1790 che cercava di sottoporre il clero al controllo dello Stato. La resistenza del clero alla riforma fu vista come un ostacolo alla creazione di un nuovo ordine sociale. Il clero cattolico aveva una notevole influenza politica e sociale e eliminare o ridurre questa influenza era un modo per il governo rivoluzionario di consolidare il proprio potere e affermare l'autorità della Repubblica. È importante notare che la rivoluzione francese coinvolse una varietà di ideologie e che le opinioni sulla Chiesa e sul clero variavano tra diversi gruppi rivoluzionari, mentre alcuni cercavano una completa soppressione del potere ecclesiastico, altri cercavano una forma di cooperazione tra Chiesa e Stato. Durante il periodo della rivoluzione molte suore furono coinvolte in eventi drammatici, tra cui arresti e soppressioni delle istituzioni religiose. Uno degli episodi più notti fu l'arresto di suore che si verificò principalmente nel contesto della decristianizzazione e nelle misure adotate per eliminare l'influenza della Chiesa Cattolica. Nel corso della rivoluzione le autorità rivoluzionari nell'ambito della decristianizzazione vedevano le istituzioni religiose, compresi i conventi e le istituzioni monastiche, come simboli dell'antico regime e come ostacoli alla realizzazione dei principi repubblicani. Di conseguenza furono prese misure per chiudere molti di questi istituti religiosi e disperdere le comunità monastiche. Nel settembre 1792, durante l'assalto a Thuleire, diversi monasteri e conventi furono attaccati e le suore furono costrette a lasciare le loro istituzioni. Successivamente, nel 1793, la Convenzione Nazionale e Manoleggi che abolirono i voti monastici e requisirono i beni dalle istituzioni religiose. Nel corso di questi eventi, molte suore furono arrestate, molte delle quali si rifiutarono di abbandonare i loro volti religiosi. Alcune furono giustiziate, mentre altre subirono vari gradi di persecuzione e oppressione. Questi episodi riflettono la violenza e la tensione del periodo rivoluzionario, con la decristianizzazione, che portò profondi cambiamenti nella vita religiosa e sociale della Francia. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like o un commento. Alla prossima, ciao! Grazie!